Let's go, butch! Let's go, butch! Let's go, butch! Non ci sono sport, non ci sono eventi, eccetera eccetera, quindi per quello che vi posso dire provateci, non costa niente andare là e fare una views 2-3 aggiornando quello che vi pare. Non succede niente, cioè basta andare lì e vedere una views, poi magari il video vi interessa e vi piace pure, che ne sapete? Provate per credere. Comunque passiamo subito a quelle che sono le patch notes e iniziamo subito con le cose del gameplay in generale, gli specialisti in questo caso. Allora, le abilità degli specialisti sono il tempo per prendere è stato ridotto di molto per cercare comunque nelle modalità quelli a obiettivi che si ricaricano senza fare diciamo tanti punti da sole. Questa è una cosa secondo me molto buona perché tante volte capita di usare 3 oppure 4 volte uno specialista durante la stessa partita e mi pare esagerata come cosa. Ma andiamo avanti, oltre a questo qui il vision pulse, la velocità di ricarica del vision pulse è stata di molto ridotta quindi ora si può prendere molto più velocemente, cioè scusate non molto più velocemente, la velocità di ricarica cioè quando la barra comincia a caricarsi era troppo veloce quindi è stata ridotta quella velocità, scusate ho sbagliato il modo di raccontarla. Oltre a questo allora l'abilità del regec, quella lì del nomad, regec è quella che vi fa responare, sempre la ricarica come per il vision pulse è stata ridotta di molto, è proprio visibile questa cosa in modo che così la gente non possa diciamo se non fa obiettivi, punti, kill eccetera eccetera, ricaricarsi velocemente e quindi restarsi in continuazione. In più live che sarebbero quelle, quell'arma che praticamente piazza delle sorte di mine se si può dire così di prossimità, il range del cui si passa e si fa diciamo scattare live questa sorta di mina è stato praticamente ridotto quindi ora bisogna starci molto più vicini. Il Reaper, lo Sight, sarebbe la mitragliatrice, la Gatling come la volete chiamare, sono state ridotte le munizioni da 200 a 160, poi il Firebreaker, l'Eat Wave, sarebbe praticamente ondata di calore, è stata aumentata la velocità di ricarica della barra quando si carica che non si sta facendo niente. Per quanto riguarda le armi, ora qui un altro conto, sono cambiate veramente tante cose. Allora per prima cosa la distanza per fare i long shot è stata cambiata e aggiornata per tutte le armi, quindi ora la targhetta long shot sarà stata aumentata o diminuita per le varie armi, quindi è cambiata solo questa cosa della targhetta. Allora poi, tra l'altro sugli LMG, i mitraglioni pesanti, Quick Draw, cioè estrazione rapida, il bonus è stato ridotto, quindi ci vuole molto più tempo ora quando mirate con estrazione rapida, non è più così veloce. Ma ora passiamo alle armi che vi interessano, passiamo prima alle mitragliette. Allora, il WMP. Allora, il WMP, il tempo di mira, quando voi non avete Quick Draw, comunque se lo avete, è stato aumentato, cioè quando voi non state mirando e premete il grilletto sinistro, il tasto che usate per mirare, praticamente è stato aumentato perché il WMP era troppo veloce in questa cosa, per diciamo, matchare, per essere diciamo come le altre SMG. Poi, leapfire, cioè sparare senza mirare, è stato aumentato perché, diciamo, in modo così destra è sempre quella di altre SMG per renderla più bilanciata e questi qui sono i cambiamenti per il WMP, ma per il faro invece è stato diminuito il danno da vicino. Non capisco questa cosa perché io vi giuro il faro, dopo il nerf che li hanno fatto, per me è inusabile online. Il LAN è un'arma fortissima, ma online attualmente a me pare molto inutile. Comunque, andiamo avanti. Il Razor Back, invece, è stato aumentato la portata, il danno della portata, quindi ora ha più portata, praticamente, cioè più siete più una persona distante, quindi ora il danno è aumentato a quella distanza. Prima, se magari ci voleva un colpo o due colpi in più, ora ce ne vuole magari solamente uno o proprio uccide subito. Per quanto riguarda i fucili d'assalto, ecco qui. Allora, praticamente, l'XR2 è stato aumentato l'allargamento delle crocette quando si spara senza mirare, per essere più simile agli altri fucili d'assalto. Praticamente, il radio di fuoco è stato, diciamo, diminuito, minor tweak to the fire rate, c'è stato praticamente un piccolo cambiamento al radio di fuoco. Questo qui, penso, per matchare chi tiene premuto il grilletto, perché come sapete l'XR2 basta tenere premuto il grilletto e spari da automatico, e chi invece magari lo preme in continuazione. L'HVK30 è stata aumentata l'abilità di controllare il suo rinculo, suo nome è buona, magari potrebbe essere un'arma molto viabile se il rinculo è controllabile. L'XR1 ha solamente delle cose riguardanti le sue animazioni con determinati mirini, eccetera, eccetera. M8A7, questa è una cosa che vi interessa a tutti, allora ascoltate bene. Praticamente, l'M8A7, secondo me, è una delle armi più forti di questo gioco. Online, tra l'altro, è buggatissima, è inconsistente, buon bomba tantissime volte online. Che cosa è stato fatto? Gli è stato aumentato il radio di fuoco. Non la capirò mai questa cosa, ora l'M8A7 sarà un'arma permabannata, quindi non ci si può fare niente. Per quanto riguarda le altre armi, che sinceramente gli LMG non vi dirò niente, perché mi fanno veramente schifo, li odio, e se sarò costretto li userò. Sì, ve lo dico, è la verità. Comunque, gli shotgun, il KRM-262, gli è stato aumentato il range letale in cui può one-shotare. L'Immaker-12 è stato aumentato il radio di fuoco e il danno è stato diminuito di molto. L'Argus è aumentato il tempo di mira, cioè quando voi premete il vietto sinistro, il tempo da avere l'arma in mano ad averla davanti agli occhi. E poi è stato aumentato il danno da vicino. Per quanto riguarda le pistole, qua arriviamo a qualcosa che qua a tutti vi piacerà sentire. Finalmente l'Helkar è stato ridotto il danno da vicino, perché veramente erano fortissime, erano forti quanto un SMG se non sbaglio. Però secondo me era una cosa giusta che fossero così, perché ci sono armi come il Vesper che non sono state toccate. E il Vesper, come sapete, scioglie le persone, è incredibilmente preciso, ha un radio di fuoco esagerato che distrugge le persone. Quindi non capisco questo cambiamento perché non è stato fatto. Comunque, allora, l'ultima parte che secondo me può interessare sono le termite, le granate termite, perché praticamente è stato ridotto il loro danno nel tempo. Cioè ora ci vuole molto più tempo per uccidere una persona all'interno della termite, cioè del fuoco. Ma secondo me saranno bannate tranquillamente perché le termite sono troppo forti, zonano, non ci sono counter, cioè i trofi non le spaccano. Non capisco perché, non esistono tra l'altro nemmeno perk che ti aiutino a resistere alle termite o a poterci passare sopra senza prendere danno. Praticamente voi arrivate con la visuale che è tutta rossa, col fuoco, mentre prendete danno e state correndo e uno vi spara. Cioè non è fattibile come cosa secondo me, tutti giocherebbero quattro termite se no. E niente, questi sono i cambiamenti che sono stati fatti dall'Activision. Ci sono stato magari qualche fix allo spawn, questi qui sono cose di general gameplay, eccetera eccetera, ma niente di più. Quindi io spero che comunque continueranno perché già stanno facendo vedere che dopo poco più di dieci giorni dall'uscita del gioco, stanno già, no due settimane, stanno già investendo molto negli update, eccetera eccetera. Speriamo, facciano altri cambiamenti e bilanci nel gioco. Odio i Call of Duty in cui c'è sta un'arma che supera tutte le altre. Mi piace di più quando c'è una varietà a seconda della mappa, della modalità. In questo caso, specialmente con i pick and ban, può creare una varietà grandissima. Io spero vi sia piaciuto questo video, ci becchiamo al prossimo video. Let's go!